Il distaccamento 24B dei Vigili del Fuoco della Campania, vedete, ha come simbolo il draghetto Grisù che voleva fare il pompiere e in effetti questo distaccamento è di per sé simbolico nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Qui opererà dalle 8 della mattina alle 20 un automezzo con 6 persone di equipaggio. La sola struttura è capace di fare prevenzione perché ovviamente attraverso le tecnologie e il fatto che i Vigili del Fuoco esistano sul posto siamo certi che il fenomeno andrà a essere mitigato. Io penso che ci siano poche chiacchiere da fare sulla Terra dei Fuochi, noi dobbiamo spegnere i fuochi che ci sono e oggi lo facciamo con un evento che è un fatto, un fatto incontrovertibile epocale che realizza il distaccamento dei Vigili del Fuoco nella Terra dei Fuochi. È una cosa che forse sarebbe dovuta accadere anni fa, oggi l'abbiamo realizzato.